Non lo sapeva meglio. Oggi ci troviamo dentro Palazzo Chigi di Formello per rispondere alla domanda di Maria Valentina Gargioli, formellese doc, con alcune pubblicazioni divulgative sulla storia recente di Formello, le tradizioni, i dialetti, però mi chiedeva delle informazioni specifiche sulla storia di Palazzo Chigi, cioè su come questo edificio monumentale si sia evoluto nel corso del tempo. Allora, insomma, ho aspettato qualche tempo per poter avere il cortile del palazzo a disposizione, stamattina un appuntamento per vedere un pezzo archeologico che andava restaurato, oggi non siamo aperti al pubblico, quindi insomma ho un po' di tempo libero per poter fare questo approfondimento. Palazzo Chigi è, diciamo, il cuore della Formello nobiliare, in qualche modo, e qui si stratificano tutte quante le attività e le volontà di chi ha posseduto Formello, addirittura prima che il palazzo esistesse, perché nel 2000, tra il 99 e il 2000, quando sono stati fatti degli interventi strutturali molto importanti sul palazzo e quando per esempio è stata restaurata la sala Orsini, che erano le vecchie scuderie del palazzo, venne fatta un'indagine archeologica sotto la pavimentazione delle scuderie, rinvenendo delle tracce molto importanti che non sono state pubblicate ancora a dovere, insomma, ma ce ne tracce in alcune relazioni, delle tracce di murature molto imponenti legate all'undicesimo secolo e noi rispetto all'undicesimo secolo conosciamo le prime attestazioni di Formello. Nel 1026 e nel 1037 Formello viene citata in due documenti una pieve di San Paolo, un monastero urbano che era probabilmente in questa parte di Formello e della quale si è persa ogni traccia. Ecco, queste tracce, questi grossi muri con dei contrafforti potrebbero essere parte di quella pieve di San Paolo, di quel monastero urbano legato ai monaci di San Paolo fuori le mura che hanno fondato Formello e fondando due borghi distinti all'interno dello stesso piccolo pianoro. Quindi Formello nella parte più alta, dove c'era la pieve di San Paolo, la chiesa di San Lorenzo, una cappella all'interno della chiesa di San Lorenzo dedicata a San Giovanni, quindi con funzioni di battistero. E poi c'era un altro borgo, un borgo diciamo minore, come posso dire, che si sviluppava intorno alla chiesa di San Michele Arcangelo, detta di Sant'Angelo. E questo borgo, secondo la ricostruzione che ne ho fatto dopo aver scavato piazza San Lorenzo e altre ricerche fatte nel borgo di Formello, questo borgo diciamo iniziava nell'attuale, dall'attuale via di Capocroce, piazza Garibaldi e insomma si sviluppava intorno alla chiesa di San Michele Arcangelo fino a Porta da Piedi, che è la porta diciamo d'uscita di Formello, del pianoro di Formello, e si chiamava probabilmente Mubbiano o Obbiano. Tutta questa situazione perdura insomma dall'origine di Formello, intorno al 980, sono i materiali più antichi che sono rinvenuti sul pianoro, fino al 1268-69, quando Formello viene comprata, diciamo in più fasi, dalla famiglia Orsini. Ah, gli Orsini chi erano? Ne ho parlato in un altro video, quello in cui facevo ragionamento sullo stemma araldico delle rose. Insomma gli Orsini erano una nobile famiglia romana ormai, probabilmente quindi di origine germanica, ma insomma intorno all'anno 1000 di origine germanica, nel 200 sono assolutamente romani e questa famiglia era strenuo difensore della chiesa. e in quel momento, nel 1268, aveva due cardinali nel conclave. Il famoso conclave che poi prende il nome di conclave, questa riunione di cardinali che attendevano la discesa dello Spirito Santo che indicasse il nome del pontefice, questo conclave che non terminava mai. Quasi due anni e mezzo di conclave non si riusciva a fare il papa nel palazzo dei papi a Viterbo e addirittura appunto dovettero chiudere i cardinali cum clave a chiave perché questi se ne andavano in giro, non facevano il papa e se ne andavano in giro a fare cosa? Per esempio i cardinali Giovanni Gaetano Orsini e Matteo Rosso II Orsini se ne venivano qui e se ne venivano a comprare Formello. Questo proprio accadeva in quel periodo e quindi l'acquisto di questo borgo sarà l'inizio dell'acquisizione di tutta un'altra serie di borghi circostanti che poi arriveranno alla costituzione dello Stato Orsini che poi diventerà nella fine del Cinquecento il Ducato di Bracciano. Formello quindi è il primo borgo che questo ramo della famiglia Orsini acquista e in realtà dal 1268 si dovrà arrivare al 1286 per l'acquisizione definitiva perché in realtà c'era uno strano ordine di famiglia per cui non si poteva possedere il bene in due diciamo parenti e bisognava che il bene fosse singolo per poterlo definire proprio insomma una normativa interna alla famiglia Orsini. Durante questo periodo tra il 68 e l'86 del XIII secolo c'è anche la nomina di Giovanni Gaetano Orsini a Pontefice e fu appunto Papa Orsini un Papa particolarissimo perché? Perché tra Pontefice con il nome di Niccolò III tra il 1277 e il 1281 e meritò di finire nell'inferno dantesco per il suo nepotismo insomma in una condizione anche abbastanza singolare perché messo in un lago di melma e sono gentile con la testa all'ingiù e questa voce e i piedi per aria, non un'immagine molto edificante, chi con voce un po' lamentosa piangeva di aver durante la vita messo troppo nella propria borsa e quindi la legge del contrappasso lo metteva in questa borsa di materiale insomma maleodorante e durante appunto il colloquio con Dante racconta di sé di aver favorito gli orsatti tradotto letteralmente gli orzacchiotti e quindi io che fui figliol dell'orsa e quindi lui che era un Orsini aveva favorito troppo gli Orsatti e questo ci dà però una fotografia di come effettivamente questa famiglia Orsini in questa fase è potentissima e comincia a comperare beni tra cui appunto Formello è uno di questi e a estendere i propri domini al di fuori della città di Roma. Che cosa fanno qui a Formello? Qui a Formello la prima cosa che fanno, vediamo adesso è arrivato un po' di sole vediamo se riesco a farvelo vedere da qui. La prima cosa che fanno qui a Formello è quella di abbattere totalmente le strutture della pieve di San Paolo e a realizzare quell'edificio che si vede male, questo edificio qui che guardate va su va su va su va su e diventa la torre la torre civica contemporanea, questo edificio qui, questa torre qui con tutte queste aperture nel corso del tempo viene realizzata proprio abbattendo la struttura precedente quindi la pieve di San Paolo della quale si perde completamente il nome nonostante questi siano stati questi monaci proprietari e fondatori di Formello intorno all'anno 1000 viene completamente cancellata ecco siamo arrivati sotto la torre vedete questa muratura a tufelli romani tipica di questo periodo della fine del 200 inizio del 300 e la torre questo è solamente un lato della torre il lato occidentale ma è inglobata poi nella struttura del palazzo la torre che si sviluppava in altezza fin dove oggi arriva la torre contemporanea poi ne parleremo e quindi una forte torre di osservazione del territorio che però aveva tutta una serie di ambienti che oggi consideriamo sotterranei o seminterrati ma che all'epoca erano insomma una sorta di erano al livello del terreno infatti gli scavi che ho fatto in piazza San Lorenzo mi hanno permesso di capire che le quote di Formello erano molto diverse che gli orsini hanno lavorato moltissimo soprattutto in questa zona qui per adeguare poi il loro grafia di Formello a un'urbanistica che cercavano perfetta ci arriveranno solo nel 400 ma tra il 200 e il 400 non c'è stata solo la torre ma anche e lo andiamo a vedere un palazzetto nobiliare questo palazzetto era aveva una base rettangolare si sviluppava a nord della torre e aderiva alla chiesa di San Lorenzo e guardatelo eccolo qui vedete questi queste finestre come sono murate all'interno di questi di queste volte a crociera che si trovano su questo lato orientale diciamo del cortile ecco questa muratura delle finestre più tutta un'altra serie di informazioni per esempio si vedono ancora murature in tufelli in quella che è sopra la nostra testa diciamo la sala grande all'esterno verso nord nel lato che ancora deve essere restaurato e pare che il comune di Formello sia pronto per cominciare i restauri della facciata settentrionale di Palazzo Chigi non vedo l'ora soprattutto di vedere no levato il lintonaco per poter leggere le murature e dare conferma appunto a questa a questa ipotesi sembra che appunto ci fosse questa fase trecentesca allora questa fase trecentesca sembra sottolineata anche questa da una epigrafe che si trova murata sui muri esterni del palazzo non in posizione non in prima giacitura insomma non nella posizione originale in cui si legge con lo stemma orsini hoc factum fecit 1373 che potrebbe essere l'anno in cui è stato realizzato appunto il palazzetto si arriva al 400 alla metà del 400 quando gli orsini promuoveranno tutta una serie di restauri e di rifacimenti nei loro borghi ormai sono proprietari dello stato sanno di avere uno stato lo nomina lo stato degli orsini e con capitale bracciano e praticamente promuovono tutta una serie di restauri nei borghi usciamo dal palazzo solamente per vedere questa cosa adesso ci investe appunto il sole allora c'è qui sulla parete esterna del palazzo una iscrizione molto molto semplice c'è scritto 1464 1464 venite volete fare sì non è non è una diretta non vendo acqua però solo solide realtà ecco come si esce in piazza ovviamente si incontrano amici e conoscenti insomma quell'iscrizione 1464 è probabilmente un'iscrizione di cava cioè il peperino utilizzato per la realizzazione del palazzo è stato cavato in una cava vicino monte aguzzo sotto monte aguzzo e da lì probabilmente questi blocchi cavati erano stati datati cioè questa è la cava di quell'anno sono i materiali cavati in quell'anno e il muratore che ha posto diciamo le in opera i pezzi i materiali i blocchi per la costruzione della facciata forse ha voluto un po giocare perché non sembra una volontà del nobile orsini sembra più un una lavorazione realizzata appunto da un muratore quindi ha preso questo blocco con questa incisione di cava e l'ha messo in facciata ben visibile questa data 1464 però si sposa molto bene con tutta una serie di altre informazioni e confronti archeologici intanto il palazzo si allarga fino ad aderire totalmente alla chiesa di san lorenzo tant'è che sul lato diciamo del palazzo che confina con la chiesa si vede ancora una parte della muratura originale che ancora deve essere restaurata ma questa datazione per esempio torna molto bene con i capitelli del cortile con questi capitelli stesso stesso peperino diciamo utilizzato in facciata e questi capitelli con queste fogliette di palma e queste le ritroviamo per esempio nella chiesa di santa maria del diciamo del santuario del sorbo che è stato diciamo promesso è stata data facoltà ai monaci di del sorbo dei carmelitani di realizzare il santuario nel 1427 ma il santuario è stato poi inaugurato probabilmente come ci dice un'iscrizione che sta sulla sullo stipite della porta d'ingresso nel 1487 quindi siamo nello stesso periodo nel quel venticinquennio diciamo ventennio che va dagli anni sessanta agli anni ottanta del 400 per cui insomma troviamo confronti di questo uso e anche di quella data che si trova nel blocco di peperino sulla facciata per la datazione di tutto il cortile cioè di tutto lo spazio che si trova intorno a noi quindi da torre torre e palazzetto il palazzetto si diciamo gira intorno e viene realizzato appunto il cortile cortile nel quale che accoglie insomma i visitatori del palazzo e che è luogo per incontri feste cerimonie eccetera eccetera oggi e che cosa succede al palazzo tra il 1400 ha anche le prime decorazioni che troviamo gli affreschi più antichi che troviamo nel palazzo al di là di alcune decorazioni molto interessanti pittoriche forse trecentesche direttamente a vivo sulla muratura a tufelli troviamo i primi affreschi realizzati datati intorno al 1480 85 da francesco petrucci e quindi insomma torna tutto il palazzo è stato realizzato questo come lo vedete oggi diciamo nella seconda metà del del 400 intorno al 1464 65 1480 intravediamo l'opera di gentile virgini orsini che era il personaggio della famiglia in quel momento al comando del feudo e il palazzo come era fatto aveva la facciata che si affaccia sulla piazza anche quella che viene completamente stravolta perché non c'era la piazza piazza san lorenzo non esisteva viene realizzata in questa fase e questa è proprio l'indagine che ho fatto no di scavo nella piazza tra 2008 e 2009 e tra 2007 e 2008 e insomma la piazza è stata da una parte tagliata da una parte riempita è stata regolarizzata c'era era molto più ripido non c'era proprio una pavimentazione della piazza quindi aveva due piani sul lato sud quello che affacciava sulla piazza e guardate lì sopra vedete c'è una parte adesso la luce ci fa un brutto scherzo ecco una parte grigio scura che è il secondo piano eccolo qua questo è il secondo piano del palazzo qui sopra al posto di questa muratura questa su quegli altri lati su tutti e tre i lati c'erano i camminamenti dei soldati quindi c'era un palazzo con una torre ancora i camminamenti dei soldati era proprio un palazzo militare nonostante avesse sale decorate e eccetera eccetera gli orsini non lo toccheranno più diciamo non interverranno più c'è questa bella scala che è la scala di accesso che porta alla loggia di cui conosciamo il nome dell'architetto francesco di giorgio di martino e forse è lo stesso architetto comunque ha partecipato anche lui nella realizzazione del palazzo però insomma è un'ipotesi in realtà non tornano bene alcune date e insomma gli orsini saranno costretti a vendere il feudo come ho raccontato in altre occasioni per motivi economici e formello verrà comprato insieme a sacrofano maglia magliano poi l'anno dopo campagnano e cesano dalla famiglia chigi i chigi metteranno il centro del loro feudo a campagnano era campagnano che diventa principato per dare il titolo di principe ad agostino chigi che era l'erede designato per il ramo secolare della famiglia mentre il cardinale flavio chigi che però fu quello diciamo della famiglia a cui spetteranno più risorse sceglierà formello con tutta una serie di investimenti abbiamo parlato di villa versaglia eccetera eccetera per palazzo chigi che cosa fa il cardinale flavio fa due operazioni anzi diciamo tre operazioni fondamentali la prima sarà l'abbattimento degli ultimi piani della torre quindi questo questa torre che arrivava fin quassù in realtà noi la troviamo fino a qui perché a un certo punto viene abbattuta proprio dal cardinale flavio siamo negli anni diciamo settanta del diciassettesimo secolo e la torre viene abbattuta perché simbolo diciamo del del potere insomma del dominio della famiglia feudataria precedente ma non solo era anche simbolo di una era vecchia era una torre del 200 figuratevi nel 600 era una cosa vecchia non serviva più e anche gli spalti come vedete vengono come posso dire utilizzati per una sopraelevazione e la realizzazione di un appartamento nuovo cioè proprio il nuovo appartamento del cardinale flavio che preferisce invece che stare al primo piano come facevano i nobili ursini di andarsene al secondo piano e da lì avere una vista migliore le finestre che vedete finte in trumpdale praticamente non sono mai state finestre e sono state progettate per essere finestre finte con i disegnini delle proprio delle finestre all'interno di cornici che però sono assolutamente perfettamente regolarizzate con le finestre rinascimentali precedenti per dare appunto una organizzazione alla anche estetica appunto al palazzo le finestre sono solo sul lato esterno abbiamo detto quindi taglio della torre realizzazione dell'appartamento nuovo e decorazioni decorazioni soprattutto nella loggia nella quale ci stiamo recando loggia che presenta questo bel insomma questo bello stemma chigi su questa inferriata lo stemma in bronzo è tridimensionale quindi si può leggere su tutti e tre i lati diventa una sorta di piramide di monticelli e bella consumata perché tutti no la ci si ci si aggrappano salendo salendo le scale e vediamo appunto l'intervento del cardinale flavio nella decorazione di palazzo del palazzo che poi prenderà appunto il loro nome palazzo chigi c'è questa bellissima statua di diana vedete il piedistallo non è una dea diana e basta è la statua della dea diana con i due cani da caccia a cui ho accennato in occasione del filmato sui cani di veglio la statua ovviamente è estremizzata perché c'è molto movimento sembra esserci vento movimento queste vesti che si muovono che scoprono in parte qualche nudità della dea diana questa vergine cacciatrice signora dei boschi e insomma quindi una bella donna quindi interesse per l'antico ma anche interesse per insomma per le bellezze femminili e anche e soprattutto interesse per la caccia perché il cardinale flavio aveva eletto formello il suo luogo di caccia preferito poi vedete maripara che c'entra sempre col flavio perché lo trova flavio la statua di maripara la trova flavio forse insieme a un altro dio degli orti e la trova a veglio durante gli scavi a veglio del 61 67 che conduce lui stesso i primi scavi a veglio e la porta a formello e mette questa statua insieme all'altra all'ingresso del paese immaginatevi che scandalo che doveva dare perché questa statua di ermafrodito di priamo di priapo ermafrodito era intatta all'epoca e quindi mostrava degli attributi maschili molto generosi diciamo ma un'altra cosa interessante al di là di queste informazioni che già vi ho raccontato sono questi due clipei con gli uccelli allora è molto famoso il soffitto dell'appartamento nuovo con gli uccelli dipinti sul legno dai dagli stanchi bellissimi bellissimi però non ve li posso far vedere diciamo siamo ancora in restauro quelle sale insomma oggi non ve li faccio vedere ma vi faccio vedere questi e questi uccelli non sono semplici decorazioni sono dei simboli il cardinale flavio probabilmente si era reso conto qui siamo nel 1663 con questa decorazione e probabilmente contemporaneamente vengono fatti questi questi queste decorazioni di questi uccelli e il cardinale flavio sapeva perfettamente forse per averlo visto con i suoi architetti come era fatto il palazzo prima che lui ci mettesse mano e quindi aveva capito che la parte orientale del palazzo era la più antica e quindi dalla loggia che serve per accedere alle varie ali diciamo di questo edificio disegna fa disegnare fa mettere questi animali che sono simbolo allora il pavone è un animale molto antico è un simbolo orientale e infatti è nella parte più antica del palazzo quella ad oriente il pappagallo invece è un animale molto recente perché viene da tutta quella serie di viaggi commerciali ma che cominciano a essere anche viaggi alla scoperta di nuove etnie e di nuovi mondi e quindi questo viene dalle zone tropicali dell'africa ma soprattutto del sud america questi pappagalli e quindi insomma l'ala nuova del palazzo che in realtà per il cardinale aveva già circa 200 anni però era diciamo un po' più fresca un po' più recente e soprattutto era l'ala occidentale del palazzo e lui ci mette questo bel pappagallo che era un animale che veniva da occidente cosa faceva lui arrivava fino a qui alla loggia poi proseguiva attraverso questo passaggio che gli permetteva attraverso un'altra stretta scala di salire fino a su al suo appartamento nuovo che è quello che vediamo allora ci spostiamo un attimo giochiamo un po' con la luce oggi perché qui ovviamente ecco ecco qua che vediamo qui appunto sottolineato in grigio da questi restauri i chigi ah ecco guarda questa 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 è bellissima quest'altra decorazione affidata al fiammingo joan momper con questa scogliera con un casale un po' un po' finto non l'abbiamo trovato non sappiamo dove sia è un'immagine di scogliera ma soprattutto questa immagine di litorale forse riguarda il monte argentario questo qua forse perché avevano dei possedimenti i chigi anche presso il monte argentario porto ercole da quelle parti lì e poi troviamo sul mare castel sant'angelo assurdo e infatti era tipico una tipica assurdità dell'epoca inserire fuori contesto degli elementi e perché c'è castel sant'angelo perché agostino chigi il pugino del cardinale flavio era castellano di castel sant'angelo e quindi era sempre un'altra cosa chigiana per cui loro mettono i loro simboli tutti insieme ma abbiamo parlato di questi viaggi i nuovi mondi insomma il cardinale flavio aveva dentro questo palazzo prima di tutte queste trasformazioni che vi ho raccontato perché siamo nel 1664 nel periodo diciamo del suo viaggio in francia alla corte dire sole aveva allestito qui negli spazi che oggi sono dedicati alla biblioteca questo è uno spazio antistante diciamo questa camerona quadrata che si trova all'angolo sud occidentale del palazzo e insomma in questa camera aveva un museo delle curiosità peregrine naturali ed antiche era un grande collezionista il cardinale flavio e amante del bello tutte le sue forme soprattutto collezionista di libri ma anche di statue e anche di oggetti provenienti da altri mondi e quindi aveva questo museo con tutto lo conosciamo benissimo perché sono rimasti degli inventari e soprattutto è rimasto un una nota in una guida turistica del 1664 di giampietro bellori e questa guida cita appunto il museo del cardinale flavio all'interno del suo palazzo chigi di formello per cui abbiamo preso siamo dopo l'abbandono dei chigi dopo che gli eredi del cardinale flavio preferiranno il palazzo chigi di a riccia e come diciamo palazzo fuori porta spoglieranno il palazzo chigi di tutte le cose belle che c'erano gli arredi le ricchezze i quadri e porteranno tutto lì ad a riccia per cui se volete vedere come era fatto l'arredamento di palazzo chigi di formello andate lì ad a riccia insomma il palazzo verrà quasi abbandonato continuano a viverci gli amministratori dei chigi e poi insomma durante le fasi storiche successive coloro che comandavano il feudo in nome dei chigi e però non vennero fatti più interventi di restauro e quando nel 83 il comune formello riuscì a comprare 1983 come formello riuscì a comprare il palazzo non si sapeva bene cosa farci c'era già un'idea a monte di realizzare un museo di veglio però diciamo che era un'idea un po fantasiosa in cui la sovrintendenza avrebbe dovuto mettere tutti i soldi per restaurarlo i materiali eccetera eccetera prendendo questa informazione del museo di veglio e prendendo l'informazione del museo del cardinale flavio quando viene istituito il museo del lago roviglientano si punta subito su palazzo chigi come sede del di questo museo nascente nel 1992 vengono fatti tutta una serie di interventi prima di pianificazione poi di consolidamento di scavo archeologico anche nel cortile non solo nella sala orsini e poi viene realizzata dall'architetto andrea bruno che prende riceve l'incarico di restaurare il palazzo con finalità museali andrea bruno di torino trova dei in un quadro soprattutto che ho già pubblicato quello del cane leveriero vede la torre di formello come era e allora immagina di poter ricostruire diciamo riproporre in chiave moderna la torre con la sua altezza antica come nuovo punto di osservazione sul territorio mi dice mi date un museo del territorio da realizzare e una torre di osservazione sul territorio ci vuole quindi dopo la visita a tutte le sale del museo che oggi non vediamo si può salire al sulla vetta della torre e vedere fisicamente da dove provengono i reperti appena esposti appena visitati nell'esposizione allora tutto questo lavoro è stato un lavoro lunghissimo il cortile come lo vedete è stato inaugurato nel 2011 ma poi sono stati fatti gli allestimenti del museo diciamo definitivi nelle sale al primo piano nel 2016 e nelle sale 5 e 6 quella al piano terra nel 2018 e ancora c'è da lavorare però insomma la storia di palazzo chigi è questa legata ai nobili prima ai monaci poi ai nobili orsini che praticamente realizzeranno l'impianto e lo porteranno ad aderire totalmente alla chiesa di san lorenzo e a cancellare tutte le tracce precedenti trasformando addirittura il borgo e unificandolo con il borgo diciamo popolare di mubiano e poi alla diciamo acquisto dei chigi e a quella fase straordinariamente importante dal punto di vista artistico e del coinvolgimento di formello nei fatti dei grandi che sarà appunto legata al cardinale flavio e alle sue diciamo fantasie culturali e artistiche la fase finale è appunto quella che trova nel palazzo chigi di formello la destinazione di un luogo diciamo per varie attività culturali la biblioteca il museo soprattutto che diciamo ha portato tutto l'interesse per una restauro una pianificazione di restauri a lunghissimo termine durati più di vent'anni e che ancora sono in corso e dalla sede del museo dell'agro veglientano vi saluto veglientani sumus ciao